L'obesità è un problema molto sentito in Calabria che ha la percentuale tra le più alte in Italia sia per quanto riguarda l'obesità pediatrica che quella in età adulta. L'obesità è uno dei problemi sotosanitari più critici dei nostri giorni che implica una serie di complicanze metaboliche, meccaniche, psicosociali e che colpisce non solo la popolazione adulta ma anche adolescenti e bambini. Laddove il problema diventa importante ecco che entra in gioco la chirurgia bariatrica con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei grandi obesi. Noi abbiamo creato presso l'azienda ospedale dell'Annunziata un centro multidisciplinare perché così prevedono le linee guida. L'obesità viene trattata sotto tutti i diversi aspetti, ci proponiamo come centro di riferimento di tutta la regione. Anche in Calabria aumentano quindi gli obesi e aumenta di conseguenza il numero di coloro che decidono di ricorrere al bisturi come nel caso del cosentino Marco Intrieri. Su un metro e 85 pesavo 190 kg. Avevo ormai difficoltà a fare qualsiasi cosa, a muovermi, a alzarmi dal letto, a lavarmi, a camminare, a giocare con mio figlio, a mettermi per terra seduto, a alzarmi dal divano. E allora è stata un po' la paura di morire che mi ha fatto avvicinare all'intervento bariatrico. Io adesso ho ripreso la mia vita in mano. Rossella Galati per l'AC News 24